Grazie a tutti i tecnici Grazie a tutti i tifosi che ci hanno messo la faccia nel corso della puntata Grazie all'emissione che sforeremo sicuramente e ci perdonerà anche questa sera Grazie perché è stato un anno brutto per il Palermo, siamo retrocessi Forza Palermo, grazie Pinus, alla grande La portiamo così fuori dal microfono Forza Palermo sempre, comunque, sempre, ovunque Adesso vi facciamo vedere un gol di Cappioli Palermo-Savoia sembrava già promozione in Serie B Poi arrivarono tutta una serie di risultati negativi E la provvidenza di Franco Sensi con Ezio Sella Grazie a tutti, ciao Forza Palermo Grazie a tutti i tecnici 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 Grazie a tutti i tecnici